se organizzassi con questa community una serie di uscite per portarvi nei luoghi più belli delle mie meravigliose dolomiti verreste e se nel frattempo si parlasse di semplicità volontaria cambiamento da un shifting decrescita e si mangiasse un bel panino al formaggio tutti insieme vi piacerebbe e quanto sareste disposti a pagare per partecipare tralasciando che per i principi in cui credo lo farei gratis ma non credete che questa potrebbe essere un'ottima opportunità per guadagnare oggi vedremo come ognuno di noi può potenzialmente mettere in piedi un'attività di questo tipo e magari guadagnare divertendosi io sono francesco vivo senza lavorare e questo è il mestiere di vivere la vita guadagnarsi da vivere passeggiando insieme a voi in mezzo ai boschi non lo possiamo proprio chiamare lavorare altrimenti che non mediamo a 8 9 o 10 ore chiusi in fabbrica se vivete in una bella località turistica sia essa una città o un luogo naturale e magari ne conoscete la storia o siete esperti del territorio allora potreste guadagnarvi da vivere organizzando uscite con gruppi di persone che vogliono vivere un'esperienza diversa qui non si sta parlando di fare la mera guida turistica quelle ce ne sono già moltissime nella nostra bellissima italia si sta parlando di organizzare un'esperienza completamente differente qualcosa di alternativo che magari di solito non viene proposto dalle agenzie viaggi se vi dovessi portare con me sulle montagne di certo non vi farei fare i classici itinerari turistici super inflazionati dove si fa la coda sui sentieri ma vi farei scoprire quei luoghi che solo alcuni appassionati conoscono se dovessimo uscire a pranzo saprei benissimo in quale malga si mangia meglio o dove potremmo piazzare le tende in sicurezza per trascorrere una nottata sotto le stelle vi porterei che so raccogliere funghi mirtilli oppure a scoprire fossili incredibili a 2500 metri d'altezza sono certo che molti di voi conoscendo molto bene le vostre zone di mare di collina o le città potrebbero fare altrettanto ovvero far vivere agli altri esperienze assolutamente uniche potreste che so portare i turisti a bere il vino in piccole cantine a mostrare a loro gallerie d'arte di artisti locali oppure accompagnarli a concerti di nicchia insomma esperienze esclusive che solo i locals sono in grado di concretizzare ben da sé che tutto questo può rappresentare una fonte di guadagno molto interessante in molti casi migliore del nostro attuale lavoro naturalmente non è semplice bisogna essere persone di una certa cultura che sono in grado di gestire un gruppo con una buona parlantina ma si tratta comunque di qualità che si possono acquisire o migliorare col tempo il problema principale però consiste nel trovare le persone ovvero per avviare la propria attività e renderla continuativa nel tempo un buon punto di partenza potrebbe essere quello di appoggiarsi a portali come show around siti che mettono in comunicazione locals persone che vivono in un certo luogo e che per denaro si apprestano ad accompagnare turisti a vivere esperienze particolari in certi luoghi fatevi un giro sul portale e guardate magari i profili di nadia o giulia per farvi un'idea di come questi che sono dei locals abbastanza quotati gestiscono le loro informazioni si può anche pensare di fare tutto da soli ma in questo caso serve avere una buona presenza sui social e naturalmente un pubblico che già ti segue come nel mio caso ad esempio insomma l'opportunità è davvero interessante ma come in tutte le cose è necessario attivarsi e creare qualcosa di unico alternativo ma soprattutto interessante appetibile se come in questo caso si sceglie di operare da soli occorre avere la qualifica di guida turistica serve pertanto avere almeno una laurea triennale e poi conseguire il patentino attraverso l'esame di stato diverso è se si vuole operare sulle montagne e diventare accompagnatore di media montagna lì c'è un concorso provinciale e poi una serie di prove pratiche se non si possedono questi titoli allora si può pensare di affiliarsi ad un'agenzia di viaggi cioè proporre il nostro speciale pacchetto che l'agenzia di viaggi si preoccuperà di divulgare ai suoi clienti in questo caso noi ricopriremo il ruolo di accompagnatori turistici che è diverso da guide turistiche per diventarlo è sufficiente il diploma di scuola media o al massimo quello delle superiori e poi opereremo come freelance muniti di partita iva vi lascio in descrizione il link ad un articolo che spiega tutte le differenze tra agenzia guida e accompagnatore col tempo poi potremo fare esperienza e quindi portare pacchetti differenti allargando un po il nostro campo d'azione l'ultimo metodo che voglio proporvi è quello del travel blogger o travel vlogger in pratica si viaggia e si documenta tutto sul proprio blog oppure sul proprio canale youtube in questo caso si guadagna attraverso le pubblicità che possiamo inserire all'interno del nostro blog su youtube grazie al sistema pubblicitario di youtube ma anche aderendo a progetti iniziative spesso promossi dall'ente del turismo oppure da soggetti privati soprattutto i travel vlogger più famosi si affidano ad agenzie che per loro prendono i contatti trattengono una percentuale e offrono progetti che solitamente sono volti a valorizzare una città un particolare contesto artistico o un luogo naturale di interesse pubblico questa strada naturalmente non è semplice e il successo sarà determinato dal numero di iscritti che riusciamo a raccimolare attraverso il racconto delle nostre avventure ce la fa chi è in grado di coinvolgere e appassionare con i propri racconti human safari e malloru progetto happiness steps over sono canali youtube di persone che sostanzialmente viaggiano e raccontano storie ognuno col proprio stile caratteristico si può iniziare proprio prendendo spunto da loro ma poi creandosi uno stile unico interessante o semplicemente divertente bene con questo video spero di aver fornito alcuni spunti interessanti per chi ama stare all'aria aperta viaggiare raccontare storie stare con le persone e da tutto questo intende ottenere un guadagno mi rendo conto che questo particolare momento storico certamente non agevola questo tipo di attività ma non saremo in emergenza per sempre o almeno lo spero io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me noi ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra puntata del mestiere di vivere la vita